Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non è andato sul dischetto il Parma ma ha avuto due rigori contro, entrambi trasformati, gole ad oro per così dire, sono Barrientos e Cassano con un gol ciascuno. Vediamo la schermata relativa agli ultimi precedenti disputati allo stadio Angelo Massimino. Questo è un fattore che aiuta i buoni propositi del Catania in vista del match di domani perché per il Parma il Massimino è un vero e proprio tabù. Inizio questa striscia di confronti retti in Serie A nel 2006-2007 fu vittoria per 2-0 grazie ai gol di Spinesi e Caserta, 0-0 l'anno dopo, 3-0 nel 2009-2010 con i gol di Mascara, Martinez e Morimoto. La stagione successiva per 2-1 con due rigori, uno di Mascara e uno di Antenucci nel finale, la punizione vincente di Giovinco. Nella stagione 2011-2012 vantaggio di Bergessio e pareggio di Modesto. L'anno scorso fu un 2-0 con il gol di Gomez e quello di Bergessio. Nei sei confronti disputati in Serie A nessuna vittoria del Parma, quattro dei rosso-azzurri e due pareggi.